Volevo far vedere a loro che ero il più forte. Sempre si finiva tardissimi. Mia mamma nella cucina si metteva al terzo piano e urlava il mio nome. Calidu, Calidu, devi tornare a casa, domani hai scuola, allora devi andare a dormire e fare il bagno. Ok, cinque minuti, cinque minuti. Rimanavo, penso, ancora 45 minuti a giocare con loro. Poi quando scendeva, là era finito. Quindi dovevamo tutti tornare a casa.